Ciao Franco, buon compleanno, 50 anni sono importanti, sono importanti. Io sono molto orgoglioso di esserti amico perché ti ritengo, tu lo sai, dalla prima volta che ci siamo incontrati, uno dei più grandi artisti di questo paese, un artista unico per scrittura, per poliedricità, per capacità di andare a emozionare, con le canzoni, e tra l'altro devo dire che col tempo la tua voce è sempre più bella, è sempre più ricca, regala sempre più emozioni proprio a pelle, di quelle assolute. Io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati, eravamo nei corridoi della RAI a Milano, in via in Corso Sempione, e tu stavi facendo delle interviste per presentare un disco che era appena uscito, credo fosse Notturno Fiorentino se non sbaglio, e io fissai l'appuntamento, ti raggiunsi, alla fine dell'intervista mi ero portato i 45 giri di ritratto, e tu eri sorpreso, quasi commosso, che un ragazzo conoscesse quel brano, apprezzasse quel brano, il disco che lo conteneva, e conoscesse anche Sogno della Galleria e tante altre cose, come Gli Uomini, e non soltanto Respiro, che poi adesso, come sai, è la canzone mia e di mia moglie, e Paesaggio, e le canzoni famosissime nel mondo degli anni 70. Eri veramente sorpreso, mi facessi una dedica bellissima su 45 giri, per questo fan giornalista che ti conosceva, e ti conosceva come grande cantautore, come autore anche di Totò, quel disco strepitoso, e parlammo di tante cose quel giorno, è un ricordo bellissimo, ci siamo da quel momento visti poco, ma sentiti spesso, abbiamo qualcosa da combinare insieme, non lo dimentico, ma prima o poi, Covid o non Covid, ce la faremo e ti raggiungerò in Salento, e combineremo tutto, perché ci tengo, perché è importante che rimanga la testimonianza di uno dei più grandi artisti italiani, Franco Simone. E se un giorno mi chiederanno come mai Franco Simone è riuscito ad arrivare a 50 anni di carriera, senza mai sbagliare dischi, facendo progetti sempre più interessanti, importanti, arrivando nel mondo, coinvolgendo artisti internazionali straordinari, io risponderò con una frase che mi hai detto tu, e che secondo me andrebbe insegnata nelle scuole, che regalo a questo festeggiamento dei tuoi 50 anni di carriera. Tu un giorno mi hai detto, sai Andrea, quando ero ragazzo ero telegenico, mi offrivano film, mi offrivano qualunque cosa, e io volevo parlare di droga, cara droga, e volevo parlare anche dell'amore sofferto, volevo parlare degli anziani, e quindi a volte non mi invitavano in televisione, è troppo telegenico, non puoi cantare queste cose, eccetera. Ma mi hai detto, e lo leggo, perché così lo leggo bene, se io non avessi seguito il mio dono di far musica e la coscienza, non sarei andato avanti e non sarei qui, senza rimpianti, senza invidie. Seguire il dono, seguire il talento e seguire la coscienza, da artisti liberi, da artisti veri, da artisti straordinari, come Franco Simone. Buon cinquantesimo, Franco. Un abbraccio grandissimo dal Piemonte.